I safari di Tartaglino di Tartagliona con Gino Bramieri Ecco Ehi Tartaglino, com'è andato il safari di sabato eh? Eh ma 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 Magnificamente Ma no ma ma malissimo, mi sono tanto arrabbiato Eh come mai? Appena arrivo al campo che cosa ti incontro? Una guida negra che mi fa Buongiorno signore Dico eh cosa fai? Mi prende in giro E lui mi fa no no Tartaglio anch'io Ha capito che roba? Capitano tutte a te Ma hai sentito un negro che tartaglia? Ma vattene Oh non parlo più eh Ma via, non arrabbiarti dai Uè io mi faccio i safari miei E voi mi fate i safari vostri Va bene? Ma lascialo perdere Fallo per me Com'è andata dopo? Ehi dopo un po' Arriva un altro cacciatore Chiama la guida negra E gli fa Vieni qua È negretto Subito signore Non tartagliava più? Non Non tartagliava più Allora mi sono veramente arrabbiato L'ho preso per il collo E ho detto Uè Biancaneve Ma com'è che con me tartagli E con il signore non tartagli più? Allora mi prende in giro E lui mi fa No no signore Non prendo in giro lei Che tartaglia Prendo in giro il signore Che parla normale Allora stavo per dar fuori da matto Quando vicino a me Che cosa ti vedo? Una iena A mezzo metro Sì Allora ho preso il coltello da caccia E mi sono tagliato una mano E la iena? Era lì che rideva Ora dico è maleducata Ma come io mi faccio male E tu ridi Ma io ti ammazzo sai E l'ho ammazzata Tu? Ma non sei capace nemmeno di ammazzare una mosca E no Io le mosche le ammazzo subito con Titi Con Titi Timor Bravo Basta una nuvoletta E che sa fare di insetti? Timor È un insetticida di sicurezza Perché contiene propellente non infiammabile Per una casa tutta vostra Senza ospiti sgraditi Timor E per una casa amabile Confortevole Odorosa Arion Deodorante Buon odore alla casa Prodotti Montecatini Per la casa